I cecchini? Aspetta, non ti preoccupare, ci penso io ai cecchini. Allora, è uno. E due, e tre. Porca due, ecco perché c'erano i rifornimenti. Le le utilizzate? Allora, dai. Dai. Ce l'abbiamo fatta, il bestione è andato. Olè. E allora ha incasinato tutto, ci ha compromesso le comunicazioni. Se facessi così, no? Però sei lì colpissi anche. Però potrei fare anche così. Ah, ma c'è il warlord, warlock. Allora, dove sei? Qui dove? Scusa, non comprendo. Posso connettermi questa cosa? Ok. Ok. Grazie, molta concentrazione. Ci vuole molta concentrazione. Io volevo con l'arma fighissima di prima. Ok. Di sotto il drone. Di sotto il drone. Quelli penso siano più amici, però. Oh, è... È porco... Oh, è un altro. Perfetto. Oh, riuscissi a beccarli. Oh, ma è finito i colpi. Perfetto. Ma è finito i colpi, raga. Raga, ho finito i colpi. Raga, raga, ho finito i colpi. Raga, ho finito i colpi. Perfetto. No. Sento il mitaglione di quel tizio là. Infatti. Ehm, no. Non è possibile che non colpisco mai nessuno, io. No, il war... La cosa, la strana. Mi ha finito i colpi, raga. Adesso ho la pistolina, io. Ok, più o meno abbiamo di sotto i droni. Sì, però mi servono le munizioni. Ah, ok, grazie. Vedi, basta chiedere, raga, è tutto a posto. Ok, quindi ce ne siamo qua perché abbiamo anche munizioni infinite perché c'è la cassa grande. Hai capito a chi stanno sparando quelli. Ma quello mica devo fare sempre tutta quella cosa. No, quello non è tanto potente, penso. Cioè, non è come quello di prima, bo di strutto. Però io lo targetto lo stesso e lo uccido. Infatti, si colpisce. Ok, raga, raga. Ok, no, non... Ok. Perfetto, 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 perfetto. Ok, distruggiamo quel coso grande. Non l'ho colpito. Perfetto, ora penso qualcosa deve averla colpita. Non l'ho colpito. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Quattro, non c'ho più di munizioni. Munizioni, 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 munizioni. Perfetto. Ma mi sa che quello non è... Ma è bloccato. Raga, ma c'è un bug. Ok, raga, c'è un bug che quello era bloccato e... E niente, subito... Lo distrutto facile. Perfetto. Ok, distruggiamo anche questi. Guardate, ragazzi, quanto... È concitata questa missione. Oh! Ok, 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 ok. Quanto è intensa. Ma tu sei... Una cosa... Oh! Perfetto. Ma se facessi proprio così? Mi si si? Ah, scusami. Assalto aereo. Uh, sono concentratissimo, ragazzi. Scusatemi se non parlo tantissimissimo anche... Sbaglio o tasso, ragazzi. Sbaglio o tasso. Devo premere R e non 4. Ok, direi che pensavo pure... Usc... Pam! Ok, perfetto. Ehm... E una, c'è un'altra. Dai, mori, 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 mori. Ho due. Facciamo così. Perfetto, cambiamoci arma. Facciamo così. Andiamo qua. Facciamoci un altro bel rifornimento. Poi ci allontaniamo un po' da qua. E cerchiamo di uccidere... Oh, qua pure stanno munizioni. Sono però a singolo uso. E questi sono anche con i piter. Ok, proprio a posto, ragazzi. Le munizioni non ci mancheranno. Ma era amico quello. Poi lo muore a caso. Hendrix, Hendrix, ora sta là. Prima stava là solo adesso. No, scusami. Vabbè, penso che siano morti più o meno tutti. Struzzo. Ok. Effetto. Oh, animazione. Ok. Adesso prendiamo Kane. Prendiamo la scena di Kane. Cazzo! Missione finita. Hendrix, trovaci un mezzo di fuga. Mi prendi per il culo. È spacciata. Può ancora farcela. Ehi! Che cazzo dici? È morta! Rassegnati. Se fosse questo Hendrix, un traditore di qualche tipo. No, forse... E io sono morto. Perché stavano dietro di me che venivano. Porca... So. Eh. La vostra amica ha lottato molto. Cosa ne hai fatto? Diciamo che non vi parlerà più. Ora... In silenzio. Lo vedrete. Ok. Possiamo andare anche da qua? Mi dicono di no. Poi c'è la cassa di munizioni. Perfetto, perfetto, perfetto. C'è il perfetto è un par de cavoli. Scusami. Io c'ho qua munizioni infinite, no? Quindi faccio così. Tac. Tac. Quante ne avevo di granate? Tre granate, ok. Perfetto. 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 Dobbiamo salvare l'amica. Però dobbiamo anche salvare noi stessi. Perché altrimenti se moriamo non possiamo salvare la nostra amica. A capo? A capo. La vostra amica ha lottato morto. Cosa ne hai fatto? Spero che non vi parlerà più. Ora... In silenzio. Lo vedrete? Allora, facciamo... Uno... Due... Tre... E basta. Poi facciamo... Uh, no, no, non venite qua però! Ok, sei morto. Uh, 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 uh. Ok, riforniamoci perché è giusto perché possiamo. Facciameli attivare. Eccoli là. Scendete. Distrutto. Olé. Perfetto. Stiamo riempendo di granate a questi strunzi. Ok. Un televisore povero televisore. Perfetto. Ma Hendrix... Oh! E dai! È un po' di educazione però. Eh, dobbiamo andare qua sopra e mi dicono. Sì, vai. Tu come sei morto, amico? Va bene. Ehm... Qua hai detto? Non so cosa hai in mente di fare, ma fallo all'aspetta. L'edificio sta per crollarti addosso. Dici, non me ne raccordo. Grazie per avermelo dito. Oh, dove sta? Ecco! Ok. Ehm... No! Già, 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 già. Mori, 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 mori. Ci sono altri? Sì? Ce ne sono altri? Ce ne sono tanti altri. Uh! 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 Possiamo salire? No? Mi sento esplosivo. Mi stai ascoltando! Resta dove sei, Hendrix! Non è ancora finito! Sto bruciando, sto bruciando! Oh, ma questo... Ma questa era la cosa in cui siamo... Sponavamo all'inizio. Sì, era il nostro quarto generale alle prime missioni. Non me ne ero accorto. Che figata, raga, bellissimo. Lo so, mi piacciono dopo queste cose. Spero anche a voi. Animazione. Lagusa. Ma non è che andrò a parlare più. Eccola! Eccola! Mamma mia, ragazzi. Quanto è incontrato questo gioco. Mamma mia. Quanto. Vuoi dire qualcosa, Hendrix? Vedo che... Hai molto sangue addosso. Perfetto, ragazzi. Anche questa missione è stata portata a termine con non poche difficoltà. Siamo al livello 10. E forse riduciamo anche le 11. No. Per niente, per niente. Io vi rimando, come sempre, al prossimo episodio di Call of Duty Black Ops 3. Che ci sarà domani, ovviamente. Perché questa serie esce ogni sera alle 17... 19. Non 17 e 19. E niente, da Fox è tutto. A prossimo video. Ciao a tutti!